carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio benedica le vostre vite questo nuovo giorno vogliamo leggere insieme nella seconda epistola di paola e corinzi al capitolo 4 al verso 6 è scritto perché il dio che disse splenda la luce tra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di dio che rifugia nel volto di gesù cristo in questo brano l'apostolo paolo parla della bellezza di cristo e della sua opera compiuta e dei riflessi che essa ha nel credente ma prima di fare questo fa un salto nel passato alle origini a dire il vero richiamando alla mente proprio ciò che troviamo scritto nei primi versi della genesi dopo la terra in forma e vuota sulla cui superficie alleggiava lo spirito di dio vediamo che lo spirito santo illumina l'autore della genesi a evidenziare che il signore cominciò dicendo sia la luce ed è proprio qui che l'apostolo paolo ci vuole riportare per evidenziare innanzitutto chi dio è quella che l'opera che dio ha compiuto è quello che egli vuole fare in noi dio innanzitutto è luce ed è bello questo perché si contrappone in modo chiaro definito alle tenebre che purtroppo governano il mondo nel quale viviamo tenebre di peccato che con tutte le sue conseguenze la corruzione la disonestà la cattiveria la gelosia e l'invidia la ricerca di potere e di successo a tutti i costi e quante altre cose potremmo dire dio è luce è il contrario di tutto questo si differenzia da tutto questo ed egli è venuto nel mondo proprio per portare la luce e far dissolvere le tenebre ed è quello che il signore vuole fare innanzitutto in ogni singolo uomo è quello che il signore compirà a pieno un giorno quando saremo nella gerusalemme celeste dio è luce e questa luce che egli emana vuole raggiungere la vita di ogni persona però ognuno di noi deve essere pronta ad aprire il proprio cuore affinché questa luce possa entrare nella propria vita non c'è abitazione che possa essere illuminata dal sole nella misura in cui le persiane le finestre rimangono chiuse barricate è necessario che vengono aperte le persiane in modo tale che la luce possa entrare e così è del cuore dell'uomo tanti rimangono serrati dentro se stessi le proprie convinzioni si lasciano sedurre da discorsi vani e da dottrine fasulle anziché aprirsi alla luce dell'evangelo della parola di dio che è capace di di schierare il sentiero del giusto e di farlo risplenderlo ogni giorno di più cari dio luce e noi vogliamo aprirci alla sua luce perché questa luce è quella che vuole illuminare il nostro cuore vuole risplendere nella nostra vita e vuole farci conoscere la bellezza la grandezza di dio e della sua opera che egli compie il nostro favore e voi dobbiamo e noi scusate dobbiamo ben tener presente questo quest'opera perché il signore non solo vuole essere luce per noi ma ci ha chiamato ad essere a nostra volta luce in questo mondo affinché chi ancora non conosce la grazia di dio possa realizzare sperimentare la verità dell'evangelo dio è luce quindi e meglio non è soltanto luce o perlomeno egli in luce vuole essere il salvatore vuole essere colui che porta la luce nella vita di ogni persona è vero sempre tornando nella genesi quando dio completò la creazione dopo aver formato l'uomo disse che era tutto molto buono eppure tutto è stato devastato distrutto dal peccato che entra nel mondo a causa della disubbidienza di eva e di adamo e veramente dinanzi a questa grave mancanza tutti quanti noi non possiamo che rimanere stupiti dinanzi a ciò che dio ha deciso di fare per poter riconciliare l'uomo a sé che cos'è l'uomo il salmista se lo chiede cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria il figlio dell'uomo perché tu te ne prende cura non è altro che polvere della terra ma egli è stato formato da dio noi siamo stati formati da dio ed è proprio per questo che egli ha deciso nel suo infinito amore di redimere l'anima nostra dal peccato e dalle tenebre affinché la sua luce possa risplendere nella nostra vita egli ci ha formato a sua immagine con cura particolare con dei privilegi particolari e dopo la caduta non ci ha abbandonati alla morte eterna anzi riguardando alla nostra condizione miserabile ha voluto assumere la nostra stessa natura per poter venire in mezzo a noi dare la sua vita per noi pagare il riscatto per noi affinché chiunque credi in cristo gesù possa avere ed ereditare vita eterna come nel primo atto della creazione quindi dio disse sia la luce e la luce fu così oggi dio vuole mandare la sua luce attraverso cristo nella vita e nel cuore di ogni persona perché gesù è il sole della giustizia e in lui rifulge la gloria di colui che lo ha mandato per la nostra redenzione perché eravamo tenebre ma quando accettiamo cristo noi siamo luce nel signore quanto è grande quanto è meraviglioso l'amore di dio oggi noi conosciamo la verità della parola e sapendo di essere stati illuminati da una così grande luce guardiamo bene che questa risplende in modo straordinario in noi affinché la testimonianza dell'evangelo possa essere ben diffusa nel mondo che ci circonda perché tanti periscono nel dolore nella sofferenza tanti periscono nel peccato ma noi vogliamo dire a chiunque ci circonda cristo gesù è venuto per portare luce cristo gesù è venuto per salvare l'uomo cristo gesù è la soluzione la risposta ad ogni problema spirituale morale interiore fratelli sorelle l'iddio che ha detto sia la luce vuole far risplendere la sua luce in ogni uomo per quanti sono credenti il compito di presentare cristo affinché ogni uomo e ogni donna possa conoscere chi è la via la verità e la vita che la pace la grazia l'amore la presenza di dio ci accompagnino ancora oggi dio ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti